Allora, una Ferrari si ferma al somaforo e sta lì, aspetta che venga il verde, gli si affianca una panda tutta arrugginita di un muratore, allora questa panda, che poi altri non è che Gnazio scanta il vinello, tira giù il finestrino, e gli fa quello con la Ferrari, questo con la Ferrari gli fa con la puzza sotto al naso, gli fa sì, mi dica c'è qualche problema, gli fa no, ho fatto, gli fa oh, questa macchina, dimmi una roba, vabbè, gli fa sì, perché, che te so, che te so, ci farà, ne metti tanti pochi in giro, chissà perché, la Ferrari.